Io lo so, sono un uomo di mondo, ho fatto tre anni di militare a Cuneo, basti di questo. Bentornati ad Economy Up. Con questa puntata comincia una nuova serie del nostro magazine con qualche piccola novità. Prima fra tutti il fatto che appunto in ogni puntata ci concentreremo su un personaggio importante dell'ecosistema italiano dell'innovazione per afferrarne le tendenze più importanti. Se appunto per questa prima puntata abbiamo chiesto aiuto all'impareggiabile Totò che avete visto nel video di apertura è perché anche nel mondo delle start-up, delle nuove imprese innovative, si può essere appunto imprenditori di successo, imprenditori di mondo, nascendo a Cuneo. E stiamo parlando di una start-up speciale, non di una start-up qualsiasi. Stiamo parlando di Satispay che a meno di sorprese delle ultime settimane sarà la start-up più finanziata del 2017. 18 milioni di euro raccolti in un aumento di capitale che diventano 26 se si considerano i denari ricevuti dall'inizio dell'impresa, dal 2013. Un record appunto che andiamo a conoscere insieme, a scoprire con il founder Alberto Dalmasso. Vi anticipo che cosa fa Satispay. è una sorta di WhatsApp dei pagamenti digitali.